Stai ascoltando un podcast Rizzoli Education Vite per l'arte, protagonisti dell'arte del Novecento tra Europa e Stati Uniti di Valerio Terraroli Jean Fautrier, antesignano artista informale Jean Fautrier è un pittore francese che appartiene a una situazione culturale e artistica del tutto diversa e nuova rispetto a ciò che era accaduto nella prima metà del Novecento È una situazione proprio di passaggio che si enuclea proprio durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale È quello che viene chiamato in gergo l'informale Che cosa si intende con questo termine? In realtà informale è un'etichetta molto larga, una specie di grande scatola in cui mettiamo tutti quegli artisti che proprio in questi anni, gli anni Quaranta i momenti diversi, cioè i danni diversi, sempre degli anni Quaranta e in luoghi diversi, prima gli Stati Uniti, poi l'Europa quindi l'Europa appena dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale scelgono una strada, un'espressione, un linguaggio artistico che rifiuta completamente qualsiasi tipo di relazione correale attraverso una descrizione cioè non sono artisti figurativi, non sono strettamente artisti astratti compongono delle opere in cui l'elemento più evidente è il gesto pittorico e la forma informe, sembra un besticcio di parole, della pittura Jean Fautré è uno di questi artisti che ha una storia anche molto particolare che un po' ci spiega perché realizzi le opere di cui adesso dirò Jean Fautré durante gli anni di guerra durante l'occupazione da parte dei nazisti della Francia era ricoverato in un ospedale per questioni, per disturbi psichici e problemi insomma propri e proprio negli ultimi anni tra il 43 e il 45 proprio a ridosso di questo ospedale che è una periferia c'era un campo in cui i nazisti, soprattutto gli SS, la Gestapo portava dei prigionieri, dei partigiani francesi o prigionieri insomma di guerra e li fucilava e lui proprio sulla scorta di questa impressionante e continua rumore dei fucili, delle armi, delle urla e poi ciò che vedeva nei giorni successivi i corpi abbandonati nei campi, nel campo la putrefazione di questi corpi e diciamo questa situazione di sospensione fino a quando appunto la guerra finisce è qualcosa che di resta proprio marcata all'interno della memoria e della sua sensibilità per cui proprio tra il 45 e il 46 poi andrà avanti fino quasi all'inizio degli anni 50 Jean Fautré comincia a esprimere questi ricordi spaventosi e questa sensazione di morte così invasiva della memoria attraverso delle composizioni, delle opere che non sono strettamente dipinti lui realizza come dei pannelli o anche delle tele sulle quali stratifica, strato per strato con una lentezza quasi esecutiva esasperante strati di caolino, di gesso per capirci, di scagliola mescolati a pulviscoli di colori colori terrosi, dei rosati, dei beige, dei gialli che stratificandosi si mescolano e su questi strati, immaginiamo come della sabbia che ha in parte dei colori l'artista traccia dei segni segni che definiscono, ma definiscono appena suggeriscono come delle teste, dei volti il tratto di un naso, una bocca, un taglio che sembra una bocca, le linee delle sopracciglia queste opere le chiama Teste di ostaggio ed è questo che lui rappresenta ciò che resta di un'umanità ferita, uccisa, abbandonata e persino diciamo la perdita di umanità cioè quando il volto perde il suo essere individuo essere umano e diventa carde che si diventa putrefazione diventa tutt'uno con l'erba, con la terra nell'ultimo momento in cui ancora un piccolo tratto lo rende riconoscibile ecco questa è la testimonianza che Fottrie ferma in questa immagine è un'immagine forte è un'immagine se vogliamo persino cruda che però non ha nulla a che fare con la testimonianza oggettiva di quello che lui aveva visto di quello che ricordava non è più il tempo di descrivere la realtà non è più possibile davanti agli orrori di questa guerra e parliamo del secondo conflitto mondiale e poi gli echi che avrà nella sensibilità collettiva quello che allora non si sapeva o che pochi conoscevano gli orrori dei campi di sterminio per esempio e poi l'effetto che ha avuto le due bombe atomiche in Giappone cioè la sparizione degli esseri umani ecco allora tutto questo è così profondamente innervato in Jean Fottrie per cui la sua pittura o anzi meglio dire la sua espressione artistica passa attraverso il frammento è un frammento di umanità basta però quello quella specie di terra o di sabbia o di gesso appena modellato dove i colori sono delicatissimi con dei passaggi tonali quasi da rendere poetica l'immagine del cadavere non vuol dire edulcorare una tragedia vuol dire per Fottrie trovare una strada per far uscire da sé quel senso di tragedia quel senso di responsabilità quel senso incombente che non ha parole e l'unico modo è rappresentarlo con questa idea di frammentarietà con un gesto con un segno ed è esattamente ciò che permette di inserire Fottrie in quello che è la grande stagione dell'informale europeo che è un po' il figlio dell'informale americano per capirci Jackson Pollock e Mark Rochko come riferimenti così generali ed è appunto un'arte che passa attraverso una sua materialità perché noi leggiamo nell'opera proprio la materia la tela grezza o il supporto di legno e poi questo gesso lavorato stratificato in cui si vedono proprio le spatolate che via via stratificano e poi segni fatti con le dita o col manico di un pennello che individua alcuni tratti di queste teste che galleggiano nel nulla ed è proprio diciamo l'ombra che resta dell'umanità cosa dire di più oltre a quella strada c'è l'annullamento dell'immagine che è esattamente la strada che sarà perseguita diciamo nell'ultima stagione degli informali cioè i primissimi anni 50 arriviamo a Vedova tanto per capirci dove il gesto è un gesto rivoluzionario è un gesto che provoca che distrugge e che sarà sostituito ovviamente da una reazione che sarà quella del New Dada Piero Manzoni per esempio e l'arte concettuale seguici su rizzolieducation.it per ascoltare le prossime puntate di Vite per l'arte protagonisti dell'arte del novecento tra Europa e Stati Uniti di Valerio Terraroli Hai ascoltato un podcast Rizzoli Education